Ma come sono state girate le scene del Quidditch in Harry Potter? Ebbene sì, queste scene, come riportato anche dal regista Chris Columbus, che ha diretto i primi due capitoli, ovvero la pietra filosofale e la camera dei segreti, non è stata veramente una grande e facilissima impresa riuscire a riprodurre uno sport magico come quello del Quidditch. E oggi ve ne andrò un po' a parlare. Ciao, sono Captain Nerd e bentornati su Chuck e azione. Come tutti sappiamo bene, il Quidditch è uno sport dove vi sono delle scope volanti nella quale le persone a cavallo di esse devono cercare di prendere una palla e fare un canestro in maniera tale di accumulare punti. Comunque, per vincere basterebbe solo e soltanto catturare un boccino d'oro molto piccolissimo che scorrazza in tutto il campo segretamente. Quindi, quando qualcuno lo trova e lo prende, si chiude la partita e vince chi lo ha preso. Jake Rowling ha scritto un regolamento molto preciso relativo al Quidditch, tutto per noi. E c'è da dire anche che il nostro Stuart Craig, lo sceneggiatore del campo, è riuscito a ricreare un'atmosfera molto reale per quanto riguarda il campo di Quidditch. Quindi un grande ringraziamento dato anche a lui. E per far sì che ogni scena legata al Quidditch sia vista ben chiara, che si nota anche l'eccitazione e tutto il resto, vengono fatti degli schizzi sulla storyboard ben prima delle riprese, in maniera tale che si veda già dapprima se una scena può funzionare o meno su questo campo magico. Uno dei fattori più negativi di questa vicenda è il discorso del dispendio di tempo, perché infatti per girare una scena di due secondi, a livello di comparto tecnico e inquadratura di tutti i giocatori, può volerci anche minimo una settimana di tempo. Quindi è una cosa pazzesca. Tra l'altro, come afferma anche il supervisore degli effetti visivi Teamwork, all'interno di un computer possiamo fare ciò che vogliamo. Gli effetti in volo con i mantelli che svolazzano e si muovono, ovviamente non sono fatti veramente dagli attori, ma sono modificati digitalmente con i visi degli attori, come succede spesso in moltissimi altri film. Però il risultato è qualcosa di spettacolare, non c'è niente da ridire. Poi va considerato anche gli anni in cui è stato riprodotto. Ora, andando avanti con gli Harry Potter, già dal quinto capitolo in poi il Quidditch viene un po' abbandonato. Nei primi due capitoli diciamo che è il momento d'oro di questo sport, perché ci sono proprio delle partite, quindi è veramente bello vedere una partita intera in cui Harry deve cercare di vincere la partita. Già dal terzo va a calare, nel quarto c'è il calice di fuoco e quindi la scopa volante viene utilizzata in vari scontri, tra cui anche quello bellissimo, il drago unghera spinato. Però ricordiamoci che il primo Harry Potter è del 2001 e qui c'erano dei personaggi totalmente in CGI a ricoprire un'intera scena. Quindi va anche ricordato che la CGI ha iniziato a sfondare un po' dagli anni 2000 e da lì in poi è andata sempre migliorando. Negli ultimi capitoli diciamo che sì, viene usata un po' la scopa volante, però la trama si infittisce sempre più a livello dark, ci sono delle sottotrame di cattivi, storie abbastanza mondiali a livello di minaccia e quindi uno sport viene un pochino accantonato. Però nulla a che vedere con i primi, i primi sono spettacolari, anche se la CGI era così così, riguardandoli se non sapevate questa cosa e non ci fate neanche caso. Quindi ragazzi sono arrivato alla conclusione di questo video, spero che abbiate apprezzato questa curiosità e che ne vogliate sentire anche delle altre. Vi chiedo di seguirci sui social, siamo su Facebook e Instagram dove ogni giorno pubblichiamo post legati a cinema e serie tv e ricordatevi anche di seguirci su YouTube cliccando anche sulla campanella che è sempre una cosa importantissima. E da Captain Nerd qui oggi è tutto e noi ci rivedremo presto in un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi! Ciao a tutti!